Proseguiamo con l'esplorazione della barra mesh di AutoCAD eravamo arrivati al comando superficie rigata ora ci portiamo su modellazione mesh superficie di cons allora per fare un esempio dobbiamo realizzare 4 curve o 4 spigoli tra di loro però comunicanti, adiacenti altrimenti il comando non funziona torniamo sul menu inizio per preparare questo esempio lo possiamo fare con l'arco sfruttando l'opzione centro inizio fine allora mettiamo giù un centro, l'inizio e in senso anti-orario andiamo a dar la fine, eccolo qui mettiamoci ora in modalità ombreggiata con spigoli nascosti e ci portiamo nella vista sud-est in questo modo prendiamo il nostro arco con questa modalità possiamo usufruire del gizmo trasformazione lo portiamo in questo punto, selezioniamo questo asse due volte barra spaziatrice in modo di ottenere il gizmo rotazione e ci portiamo in verticale in questo modo eccolo qui adesso prendiamo sempre il nostro arco ne facciamo una copia con tasto destro a ruota in questo modo e premiamo ctrl eccolo qua ora ci portiamo sul comando specchia selezioniamo questi due elementi invio linea di simmetria che è questa, diagonale e confermiamo come dicevo è importante che questi quattro elementi siano tra di loro uniti ed è proprio il nostro caso allora possiamo finalmente utilizzare il comando sul menu mesh superficie di cones prendiamo in modo sequenziale le quattro curve così la quarta realizziamo la nostra superficie allora osservate che possiamo perfezionare queste maglie perché sono poche e quindi possiamo intervenire sulle due variabili vi ricordate surf tab 1 e surf tab 2 quindi annulliamo momentaneamente questa operazione ci portiamo sulla linea di comando surf surf eccola qui tab 1 lo portiamo non a 6 ma bensì facciamo 20 invio e nuovamente surf tab 2 questa volta e anche qui portiamoci pure a 20 ora rifacciamo il comando selezioniamo sempre le quattro curve adiacenti in maniera sequenziale ecco vedete ora la nostra superficie è più dettagliata riprendo un attimo il comando superficie rigata che abbiamo visto velocemente la volta scorsa torniamo sul menu inizio realizziamo una linea vedete in questo punto per farvi vedere che collega non solo due linee ma anche archi e linee tra di loro allora torniamo su mesh superficie rigata prendiamo questa linea e poi selezioniamo l'arco posso farlo perché ho impostato selezione ciclica qui sotto sulla barra di stato quindi seleziono arco e osservate che c'è questo intreccio ma vi ricordate perché annullo perché la selezione che devo fare deve stare tutta da una parte sia nella linea e in questo punto vedete e poi arco ora siamo perfetti vediamo infine quest'altro comando che non è altro che un comando di estrusione lungo però una linea retta allora possiamo prendere come partenza sempre il nostro arco magari da questa parte e diciamo di estrudere sfruttando la lunghezza della linea che abbiamo utilizzato per realizzare questa superficie ecco realizzato la nostra superficie vi ricordo che anche qui è importante in questo caso la variabile surf tab 1 per dare dettaglio alla nostra geometria ci spostiamo su questi altri menu questo in particolare permette la conversione da oggetti solidi in mesh allora ci portiamo su solido realizziamo che so una sfera questo è un oggetto solido ma se noi torniamo sul menu mesh oggetto levigato selezioniamo questa sfera diamo ok vedete la trasforma in mesh con questo tipo di sfaccettatura ora andiamo a conoscere queste altre icone aumentiamo la levigatezza cosa significa che possiamo rendere l'oggetto più arrotondato in base a 4 livelli di levigatezza se noi prendiamo questo comando